Cerimonia di scambio degli accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e lo Stato del Qatar e di accordi non governativi alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e l'Emiro dello Stato del Qatar, su Altezza lo sheikko Tamim bin Ahmad al-Thani. Si ricorda che è già stata adottata una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dell'Omiro dello Stato del Qatar. Si procede ora allo scambio degli accordi. Memorandum d'intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy della Repubblica Italiana e il Ministero del Commercio e dell'Industria dello Stato del Qatar sulla cooperazione per la promozione degli investimenti diretti. Scambiano per la Repubblica Italiana il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per lo Stato del Qatar il Ministro del Commercio e dell'Industria dello Stato del Qatar, Mohamed Bin Hamad Bin Qasim al-Badullah al-Thani. Memorandum d'intesa tra il Ministero del Turismo della Repubblica Italiana e Qatar Tourism dello Stato del Qatar sulla collaborazione nel settore del turismo scambiano per la Repubblica Italiana l'ambasciatore della Repubblica Italiana in Qatar, Paolo Toschi, per lo Stato del Qatar il Presidente di Qatar Tourism, Sahad Bin Ali al-Kharji. Dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel settore culturale tra il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e l'autorità di museale dello Stato del Qatar scambiano per la Repubblica Italiana il sottosegretario di Stato agli affari esti della cooperazione internazionale, Maria Tripodi. Per lo Stato del Qatar, l'ambasciatore dello Stato del Qatar in Italia, Khalid Yusuf al-Sada. E' l'ambasciatore della Repubblica Italiana in Italia, l'ambasciatore della Repubblica Italiana Memorandum d'intesa tra Fincantieri S.P.A. e Barzan Holdings sulla cooperazione strategica per la produzione di radar Omega 360 nello Stato del Qatar. Scambiano per Fincantieri S.P.A. l'amministratore delegato Pierroberto Fulgero per Barzan Holdings l'addetto alla difesa dell'ambasciata del Qatar in Italia, generale maggiore Hilal Al-Muannadi. Accordo push strategy S.P.A. in Qatar tra S.P.A. e Estitmar Holdings. Scambiano per S.P.A. l'amministratore delegato Alessandra Ricci. Per S.P.A. l'amministratore delegato dal Presidente Mohamed Badr al-Sada. La cerimonia è conclusa. Grazie a tutti.